Avevamo parlato dell'Abruzzo in apertura, viene dalla terra d'Abruzzo, nella terra d'Abruzzo ha deciso comunque di rimanere anche dopo quel terremoto. Siamo felicissime di averle qui con noi. Irene Sebastiani, che è tenente colonnello del reparto Carabinieri Biodiversità dell'Aquila, dal 2006 in servizio nell'ex corpo forestale dello Stato, che è stato assorbito da quella divisa, la divisa dei Carabinieri. Ben arrivata, grazie mille, colonnello, di essere con noi. Grazie infinita. Allora, sentite, ci fermiamo soltanto per un attimo, vi vogliamo parlare, con l'aiuto del colonnello, anzi sarà lei a parlare, di come trattare l'autunno, come trattarlo nella maniera più rispettosa, glielo dobbiamo, e tra poco, allora Solare, vi spieghiamo come. Grazie. Ed eccoci qui con la tenente colonnello Irene Sebastiani, che ringrazio tantissimo per aver trovato il tempo di venire da noi. Tenente colonnello del reparto Carabinieri Biodiversità dell'Aquila, dal 2006 in servizio nell'ex corpo forestale dello Stato. Allora, colonnello, noi abbiamo sotto gli occhi quello che è successo più di recente in Toscana, siamo di fronte ad un autunno, ad un tempo che ha cambiato, quantomeno ha cambiato il modo di arrivare fino a noi, di proporsi fino a noi. Al netto di tutto ciò, come dobbiamo trattare questa stagione che fatica un po' di più? Noi ce l'abbiamo nella nostra finestra, ma fatica un po' di più, e lo vediamo da queste immagini, a essere l'autunno che noi tutti ricordiamo. Non perché prima non accadessero queste cose, per carità, come lo dobbiamo trattare l'autunno? Siamo in questa stagione che è sicuramente la più bella dell'anno, perché gli alberi si caricano di colori bellissimi, le foglie si caricano di colori bellissimi, che vanno dal giallo al rosso, al viola al bronzo. Pensiamo agli aceri, che sono quelli tra i foliaggi più belli, gli aceri, i sorbi, i ciliegi. E' chiaro che l'albero fa questo attraverso un orologio interno, attraverso una proteina, che si divide in due forme, in due fitocromi, il 660 e il 730. Pensi un po', è noi che non lo sappiamo quando vediamo... Esatto, e l'albero riesce a capire quando è giorno e quando è notte, e quindi quando si equivalgono giorno e notte, siamo in prossimità dell'autunno, l'albero capisce che è arrivato il momento di sfogliarsi e di prepararsi alla coescenza invernale. Ecco, Cronelo, un po' viene rabbia, nel senso che si sente una natura così perfetta, così intelligente... Esatto, e poi arriva l'uomo. E poi arriva l'uomo. Arriva l'uomo, perché la natura è perfetta, è resiliente, arriva l'uomo, e abbiamo il famosissimo riscaldamento globale, che ormai è un tema odierno, attuale. Certo. Questa anidride carbonica che aumenta, e quindi aumenta anche il processo biochimico della fotosintesi clorofiliana, perché è proprio il riscaldamento globale che, favorendo questo aumento di anidride carbonica, gli alberi crescono e si nutrono. E quindi questo che cosa significa? Che l'albero cresce e quindi viene posticipata la caduta delle foglie, il cosiddetto foliage. Allora, questo è l'autunno più caldo degli ultimi 250 anni, il vero rischio è che il foliage, che l'abbiamo visto qui, lo vediamo, chi di noi non ha visto i film di Woody Allen con quel Central Park colorato di autunno, ritarda e poi arriva il freddo, arriva la neve, lei mi segna da brava abruzzese, 11 mesi di freddo e un mese di fresco, in Abruzzo, e rischia di bruciare queste foglie. E anche gli animali subiscono. E sugli animali, certo, c'è tutto un ragionamento da fare, perché anche loro, poverini, subiscono questo scombussolamento. Sì, nel senso, perché per quanto riguarda il loro letargo, quindi anche per loro, diciamo, l'orologio interno va in tilt, pensiamo all'orso, alla marmotta, allo scoiattolo, e il corrischio qual è? Qual è il rischio? Il corriscaldamento globale poi rischiano di svegliarsi prima e quindi non trovare cibo. E questo ovviamente è un problema perché potrebbe portarli anche alla morte. Vi invoglia ogni tanto come specie umane, insomma, di chiudersi in casa, di non fare danni. Non è facile filosofia da strapazzo, ve lo posso garantire. Cerchiamo di vedere la parte buona e bella che c'è, andare a spasso nei boschi è, credo, una delle attività più belle che ci possiamo regalare. Ma voi non vi stancate mai, con quella divisa indosso, di dire alle persone che cosa si debba e che cosa non si debba fare. Ecco, tra le cose da non fare, quali sono quelle più importanti? Allora, siccome abbiamo detto che è una stagione, la stagione dell'autunno, quindi andiamo nei boschi, chi va nei boschi va soprattutto per raccogliere funghi, tartufi, per raccogliere i prodotti del sottobosco. Per esempio, per quanto riguarda la raccolta dei funghi, non portare buste di plastica, ma raccogliere i funghi e deporli in ceste a maglie larghe, in modo che le spore possano cadere a terra, quindi riprodursi. Oppure, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, non raccogliere quelli avariati o spezzettati, ma quelli freschi, con l'ausilio del cane. Sempre con l'ausilio del cane, giustamente. Ed è vero, colonnello, che per quelli che riescono a trovare i tartufi bisogna ricoprire subito la buca? Sì, per ogni pianta è possibile aprire cinque buche e richiuderle senza una lavorazione andante del terreno. Non possono essere utilizzati i rastrelli, ma soltanto un banchetto con una punta rotondeggiante. Ovviamente bisogna essere muniti anche di un tesserino e provvisti del pagamento di un tasso annuale, perché ovviamente la vigilanza aspetta a noi carabinieri. E la fate in maniera... Questa vigilanza è... Quindi rispetto della normativa nazionale di settore, ma soprattutto delle leggi regionali. Ecco, colonnello, io parlo da profana. Quello del cestino è un fatto, no? Perché devi permettere che la natura prosegua a fare il proprio corso. Bisogna anche portarli, se non si è proprio esperti, maestri, fungaioli, portarli alle asle di competenza, no? Certo, sì, quando si ha il minimo rischio, insomma. Il minimo dubbio che possa essere un fungo un po'. Sì, un fungo non commestibile, recarsi verso le asle di riferimento, il servizio psicologico di riferimento. Allora, siamo in gita e troviamo della legna. E magari siamo a casa di amici che hanno un bellissimo camino. e uno dice, fammi fare legna, che raccolgo. Magari... No, non si può asportare legna. No, brutto, via, non si fa, è vietato. Senza autorizzazione non è possibile, altrimenti siamo punibili per il reato di furto previsto nell'articolo 624. Mamma mia, se me lo dice lei con quella divisa addosso, aiuto. Ovviamente, no, però è importante perché delle volte si vedono, ah, c'è la legna, no, no, non è legna nostra. Non si possono tagliare. C'è scritto, vendesi legna per cammino, ecco, lì ci dobbiamo rivolgere. Una cosa che può sembrare quasi scontata, colonnello, e invece non lo è, guardare le previsioni del tempo, che oggi sono le più accurate possibili, più che mai. Sì, sì, prima di avventurarsi in bosco è necessario. È necessario. E poi che cosa avere sempre? Bisogna avere una torcia? Sì, bisogna portare una torcia, bisogna, consigliabile, insomma, anche una pomata cortisonica per l'eventuale puntore di insetti o lacerazioni. Dire, lasciar detto a qualcuno sempre l'itinerario che si vuole percorrere, seguire sentieri, non accendere fuochi in bosco. Per carità. E non scaricare il cellulare facendo foto? Esatto. Seppur siamo meravigliosamente tentati, perché il cellulare è uno di quei casi in cui diventa un salvavita. Le batterie cariche e soprattutto non abbandonare i rifiuti. Oh, lì sì, portiamo una busta che può essere anche di plastica, poi provvederemo a suddividere, no? Sì, sì, la raccolta differenziata, però insomma, mai abbandonare i rifiuti. Mai abbandonare, cioè il fatto che il... Se non mangio più un panino, posso abbandonare il panino a favore degli scoiattoli o no? Sarebbe preferibile, insomma, di no. Lei vede la mia faccia che è delusissima, perché io lì che vado girando con pane, pane, mele e lascio... No, faccio solo immondizie, insomma. È certo. È certo, me l'ha detto con tono molto serio, è certo, fantastico. Allora, il colonnello, con la sua divisa di carabiniere, porta, e non è la sola, l'educazione ambientale nelle scuole. Ecco, questo, colonnello, è un punto su cui voi lavorate tantissimo. È la mission proprio dei riparti biodiversità. Eh sì. Sì. E quindi, attraverso dei progetti annuali, seguiamo i ragazzi, li accompagniamo in questi percorsi, per avvicinarli all'ambiente, alla conservazione, alla tubela. Siamo amori, guardateli. Ecco, però, sui bambini noi siamo molto sicuri, sono adesso, veramente, non sto scherzando, sono i ripetenti della mia età che devono capire, no, che cosa sia giusto e che cosa non sia giusto fare. Ognuno di noi deve dare il proprio contributo, ma attraverso piccoli gesti quotidiani, non servono gesti eclatanti. No, siamo bravi in Italia o no? Un pochino. Un pochino. Dobbiamo migliorare. Un pochino. Siamo al 6 meno meno. Dobbiamo migliorare. Possiamo migliorare. Possiamo migliorare. Possiamo migliorare. Anche perché il vostro è un lavoro molto complesso, molto difficile. Il seme del miglioramento deve partire da ognuno di noi. Ecco, come dicevo, con piccoli gesti, chiudere il rubinetto dell'acqua mentre ci leviamo i denti, utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico, quello tutto l'anno, non solo d'autunno, eh? Le lampadine, ecco, mi viene in mente, a LED. Certo. Quindi piccoli gesti quotidiani per migliorare. E il mezzo panino non lo lasciate agli scoiattoli, no, 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 della serie. La prossima volta ricordatevi la mia faccia e sappiate che la colonnella mi ha guardato molto male. Allora, colonnello Sebastiani, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Meramente grazie. Chiudiamo con l'orchestra di Roberto Scaglioni, che ritroveremo però all'ora solare con un waltzer che si intitola Andate a pranzo? Però è una mania di questa... A quest'ora! Buon pranzo, signori, con l'orchestra di Roberto Scaglioni. Grazie a tutti voi. Grazie, li ascoltiamo. Grazie a tutti. Andate a pranzo, grazie a tutti. Andate a pranzo, ve lo ripeto perché non è un dispetto, ma un modo per dire ciao, arrivederci. Buon pranzo, grazie a tutti. Alla prossima, per un ottimo respiro di aria buona, autunnale. A tra poco. Grazie. Non a tra poco, a domani, vabbè, lasciami stare. A tra poco.